Tampona un camion in autostrada e si ribalta ferita una donna trasportata al torrette di Ancona. Icaro in volo anche per un'anziana soccorsa a San Lorenzo in campo dopo un frontale tra due autovetture. Monopattini stretta in arrivo, la velocità massima è ridotta a 20 km orari, no alla sosta sui marciapiedi e più illuminazione con frecce e luce di stop, niente casco sopra i 14 anni. Molti vanno molto tutto sparato, camminano anche i 35, è una velocità un po' pericolosa se caschi quindi ti fai degli infortuni e poi molti sono spericolati. Cinque anni dal sisma nelle Marche, ancora 16 mila le persone sfollate, il presidente Acquaroli scrive a Mattarella e a Draghi per la proroga del super bonus 110%. La fondazione Carifano supera il milione, ha provato il documento previsionale che conferma 230 mila euro per il settore della salute e gli altri aumentati di 20 mila euro. A Fano ha consegnato il cantiere per le scogliere di Metauriglia, a breve verranno terminate anche quelle di Sassonia, l'annuncio del vice sindaco Cristian Fanesi. Un pesarese sul tetto del mondo per più di una volta, ecco la storia di Michele Gambini, orafo di professione campione di biatle, lo sport che unisce la corsa e il nuoto. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con lo schianto avvenuto sull'autostrada 14 dove un'auto si è ribaltata dopo aver tamponato un camion. L'incidente è avvenuto alle 10 in direzione nord tra le uscite di Civitanova e Porto Recanati. Dopo l'impatto la Mercedes si è capovolta e si è anche scatenato un principio di incendio spento con un estintore dal camionista. Sul posto i vigili del fuoco che hanno aiutato la conducente della vettura a uscire dall'auto, la polizia autostradale e i sanitari. Era stato allertato anche Icaro ma la donna, residente a Montesilvano, è stata trasferita in codice rosso al torretto di Ancona con un'ambulanza a bordo della quale è salito l'equipaggio arrivato con l'elicottero. Inevitabili disagi alla circolazione a causa dell'incidente che ha comportato la chiusura della carreggiata. E un altro grave sinistro si è verificato alle 14.30 in via Zara nel comune di San Lorenzo in campo. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale si sono scontrate frontalmente due auto, una Fiat Panda e una Opel Corsa. La donna a bordo della Fiat, una 85enne del posto, è stata trasportata in elambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette ed è in prognosi riservata, illeso il conducente dell'altra vettura. Ed ora passiamo al decreto trasporti, al momento in commissione alla Camera, che prevede una stretta sull'uso dei monopattini elettrici. Sentiamo allora i dettagli ma anche che cosa ne pensa l'agente nel servizio che è stato curato da Angelica Pansieri. Arriva la nuova stretta sui monopattini, alla Camera e alle ultime battute il nuovo decreto infrastrutture che tra le novità prevede anche nuove regole per l'utilizzo dei monopattini. Il giro di vite sui monopattini arriva all'ultima curva, più scarico di quello che si poteva prevedere all'inizio. Alla Camera è stato discusso in questi giorni il decreto infrastrutture che prevede molte norme sui trasporti ed anche regole più severe sull'uso dei monopattini elettrici. Tra queste c'è quella del divieto di parcheggio sui marciapiedi e dunque la previsione di apposite aree di sosta, la riduzione della velocità massima da 25 a 20 km orari e confisca del mezzo nel caso di modifiche che aumentino le prestazioni. Non è passata invece l'estensione dell'uso del casco che rimane limitato a 14 anni come prevedono ora le attuali norme sperimentali. I popolarissimi mezzi a due ruote dovranno inoltre avere le frecce e la luce di stop posteriore. Regole che per il momento sembrano mettere d'accordo la maggior parte dei cittadini. La stretta è necessaria, sinceramente anche il casco secondo me, perché è a fine 14 anni ma ho visto gente che comunque va sui marciapiedi di continuo e sinceramente ci vorrebbe un pochino più, secondo me un pochino più servire le norme. Per me è giusto perché molti vanno molto tutto sparato, che camminano anche i 35, è una velocità un po' pericolosa se caschi, quindi ti fai degli infortuni. Poi molti sono spericolati, fanno i zigzaghi in mezzo alla gente, insomma. Secondo lei non era opportuno forse introdurre l'obbligatorietà del casco per tutti? Ridotto alla velocità quindi si può anche evitarlo, penso. Mi sembrano, le cose che mi ha detto mi sembrano più che giuste, si vedono i monopattini sfrecciare a tutta velocità, una regola ci vuole insomma, il casco è più che opportuno. I monopattini sono anche un po' più pericolosi, quanti chilometri rari in un centro così sono anche troppi, lei pensi a farli in bicicletta? Penso che sia giusto limitare comunque la velocità oraria perché sono degli oggetti, dai, comunque abbastanza pericolosi e purtroppo ci sono stati anche degli incidenti, ho sentito qualche notizia, come per i ciclisti, così ci sono delle regole, è giusto che ci siano delle regole anche per questo due ruote. Giustamente se ti fai male, anche a 60 anni, se uno vuole giustamente fare con i monopattini, guidare, il casco ci serve a tutte le età. Penso che sia assolutamente giusto in quanto vedo spesso e volentieri persone che vanno in due, su questi monopattini, divieti, vanno parecchio veloce, casco assolutamente, assicurazione, penso che sia giusto, adesso l'età, quello si può valutare e ragionarci sopra, però una stretta bisogna darla. Nelle ultime 24 ore nelle Marche si sono verificati due decessi legati al coronavirus, si tratta di una donna di 93 anni, residente a Dancone, di un anziano di 81 anni di Serra De Conti. Tra le nuove diagnosi invece i positivi registrati sono 103, di cui 26 in provincia di Pesero Urbino. Fermo è in testa per numero di contagi, con 29 nuovi casi. Negli ospedali della regione i ricoveri sono 55 in totale, 3 in meno rispetto a ieri, resta invariato il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre cresce leggermente quello dei degenti in semi-intensiva. Ed ora parliamo di ricostruzione. A cinque anni dal sisma che ha colpito le Marche, la regione ha fatto il punto sui lavori e sulle necessità. Il presidente Francesco Acquaroli ha scritto a Mattarella e a Draghi per la proroga del super bonus 110%. Sono 1821 le persone che nell'ultimo anno nelle Marche sono rientrate nelle abitazioni danneggiate dal sisma del 2016, a cinque anni dal terremoto, però restano ancora oltre 16.000 i cittadini che avevano dovuto abbandonare il centro del cratere sismico. È quanto emerso nel corso della conferenza stampa sul tema la nuova fase della ricostruzione. Sono aumentate del 36% le pratiche presentate, di oltre l'80% quelle decretate e delle 63,1% quelle concluse. Le Marche, ricorda la regione, hanno subito il 61% del danno complessivo derivante dal sisma, che ha coinvolto anche Abruzzo, Lazio e Umbria, comprendendo il 40% del territorio regionale, tre province e 86 comuni. Quattro, invece, le richieste più importanti indirezzate al governo centrale, la proroga del super bonus 110%, il nuovo preziario sisma, la proroga del credito d'imposta per le imprese e un maggiore coinvolgimento nel PNRR. Diciamo che il bonus 110% ha una rilevanza importante, è una variabile che può consentire alla ricostruzione di non fermarsi e ripartire veloce e continuare il suo svolgimento in maniera agile, oppure ricreare un collo di bottiglia che potrebbe rischiare di ribloccare tutta la fase di lavori e di procedimenti che erano stati già avviati. Anche perché in questa fase, insieme alla ricostruzione privata e pubblica, c'è la necessità di far ripartire la ricostruzione socio-economica di un territorio, ci sono le risorse col PNRR Sisma, c'è il CIS, ci sono altre iniziative di natura regionale, la nuova programmazione europea, c'è sicuramente tanta carne a fuoco, ma che se non le mettiamo tutte insieme rischiano di essere comunque scollegate e disconnesse. Per poter tornare a vedere questi territori realmente popolati e attrattivi dobbiamo consentire a chi sceglie di vivere o già vive in quei territori di poter conservare un livello che sia uguale a tutti gli altri. Enorme e inaccettabile ha giunto il Presidente il gap infrastrutturale, la Regione intanto sta rafforzando l'ufficio speciale della ricostruzione integrando l'organico con 20 tecnici e amministrativi per velocizzare le procedure di gara. Quindi quello che fino ad oggi è stato un ufficio che produceva decreti, approvava progetti di privati, deve cambiare modo di lavorare, deve muoversi in modo da poter affiancare le amministrazioni pubbliche, poter fornire progettazioni, consulenze, complementi di studi urbanistici, fare appalti per andare in soccorso delle amministrazioni e tutto sommato orientarsi verso quella che è la realizzazione materiale delle opere. Inoltre ci sono progetti di rigenerazione socio-economica per 100 milioni di euro e il piano scuole proposto al Commissario Legnini sono 52 i plessi marchigiani nelle aree colpite dal sisma che saranno finanziati ex novo con circa 141 milioni di euro. L'assessore Castelli poi ha parlato di macerie, di carenza di imprese edili e dell'aumento dei prezzi delle materie prime. 4.200 tonnellate sono le cosiddette macerie private, stiamo lavorando d'intesa con la struttura commissoriale su due versanti, cercare di semplificare le norme e ci vuole l'aiuto dello Stato per quanto riguarda la possibilità di usare quegli aggregati riciclati per il tombamento delle cave, abbiamo tante cave, sarebbe davvero ossequioso del principio di economia circolare usare il materiale del terremoto per rinaturalizzare questi ambienti. in secondo luogo creare piazzole di stazionamento che possano essere utilizzate magari zone che sono agricole debitamente autorizzate per far sì che possano essere depositi temporanei di materiali perché il problema è ora e non c'è tempo da aspettare. Torniamo a parlare del servizio che abbiamo mandato in onda ieri sera sulla maxibolletta dell'acqua arrivata a causa di una perdita occulta al titolare di un'officina meccanica Giuseppe Carbonari. Aset SPA fa sapere che nonostante l'importo elevato di oltre 33.000 euro non ha potuto far altro che concedere un rimborso di circa 9.200 euro per la mancata fruizione dei servizi di fognatura e depurazione. Il problema, ci hanno spiegato, sta nel fatto che trattandosi di un'attività commerciale Aset è tenuta ad applicare il regolamento definito dall'Ato, l'Assemblea di Ambito. Prima che questo venisse introdotto, la società dei servizi aveva adottato per anni un suo regolamento che consentiva una copertura per le perdite occulte anche alle utenze non domestiche. Non a caso da tempo Aset ha condiviso con l'Ato la necessità di rivedere il regolamento di quest'ultima, così da estendere la tutela a tutte le utenze. Una proposta che è stata respinta nelle due occasioni in cui è stata portata l'attenzione dell'Assemblea dei Sindaci. Nel ribadire il proprio rammarico per la situazione, Aset invita Carbonari a contattare, in questo caso di nuovo, l'ufficio clienti per concordare insieme un piano di rientro attraverso una rateizzazione dell'importo in fattura. Aumentano di 100 mila euro le erogazioni della Fondazione Casa di Risparmio di Fano che per il prossimo anno destina 230 mila euro al settore della salute pubblica, un impegno confermato su più fronti e per diversi progetti a beneficio della città. I particolari nel servizio di Letizia Marchionni. La somma prevista dalla Fondazione Carifano da utilizzare per finanziare le erogazioni nel corso del 2022 sale di 100 mila euro e passa così dai 920 mila previsti per l'anno in corso a 1 milione e 20 mila euro. Approvato dal Consiglio Generale il 18 ottobre, il documento programmatico previsionale 2022 è stato sottoposto domenica scorsa all'Assemblea dei Soci con esito positivo. Ieri il Presidente della Fondazione Casa di Risparmio di Fano, Giorgio Gragnola, ha reso noti i dati di bilancio. 200 mila euro saranno stanziati per attività e beni culturali, un settore importante in quanto nel 2022 la Fondazione festeggerà 30 anni dalla sua Costituzione, avvenuta nel 92. Pandemia permettendo quindi riprenderanno tutte le attività culturali all'interno degli spazi dedicati che vanno dalla Pinacoteca di San Domenico a Palazzo Bracci Pagani. Procederà anche il recupero di Palazzo Zagarelli, ora Borgogeli avveduti. 140 mila euro poi andranno al settore dell'educazione, istruzione e formazione, mentre altri 200 mila sono destinati a quello di volontariato, filantropia e beneficenza. 50 mila invece andranno alla voce protezione e qualità ambientale. Infine, 430 mila euro saranno utilizzati per finanziare il centro natatorio in costruzione in zona aeroporto a Fano. L'importo è stato ottenuto sommando i 200 mila euro stanziati per il settore famiglia e assistenza agli anziani e di 230 mila per il settore della salute pubblica, destinati alla realizzazione di un centro di riabilitazione in acqua, ricompreso nell'edificazione della piscina. La parte rimanente delle risorse stanziate per il settore famiglia e assistenza anziani sarà impiegata dalla Fondazione Carifano per sostenere e incentivare i progetti finanziati anche con risorse provenienti dall'attività di crowdfunding. Questo bilancio preventivo prevede risorse compatibili con gli investimenti che la Fondazione ha sul mercato finanziario e che presuppone erogazioni per oltre un milione di euro. Quindi incrementiamo le erogazioni rispetto al bilancio dell'esercizio precedente. Questo incremento viene spalmato su tutti i settori di intervento della Fondazione e quindi questo riteniamo possa essere un dato che va considerato favorevolmente perché aumenteranno le erogazioni sul territorio. Il Covid ha influenzato il bilancio precedente, ha spiegato Gragnola, perché nel 2021 abbiamo preso un impegno straordinario nel settore della salute pubblica. Per il 2022 la cifra destinata a questo ambito è stata riconfermata. Tutti gli altri settori di intervento della Fondazione sono stati incrementati di 20 mila euro ciascuno e quindi le erogazioni totali sono 100 mila euro in più dell'anno precedente. Anche il settore dell'ambiente, per la sensibilità che la Fondazione vuole sottolineare in questo ambito, sono stati anche quelli incrementati. E c'è un'altra buona notizia per la città di Fano perché entro dieci giorni partiranno i lavori per le nuove scogliere a Metauriglia e a breve verranno terminate anche quelle di Sassonia. Era attesa da tempo la partenza dei lavori per le scogliere di Metauriglia a Fano e oggi il vice sindaco e assessore alla difesa della costa, Cristian Fanisi, ne ha comunicato ufficialmente l'avvio. Il cantiere è stato consegnato questa mattina alla presenza della ditta e del provveditorato di Ancona. Lavori molto importanti, di un importo di 4 milioni, frutto di una collaborazione fatta negli anni scorsi con la precedente amministrazione regionale e con anche RFI che si sono impegnati rispettivamente per 2 milioni circa di euro, quindi un investimento molto importante, appunto a iniziare un'opera che secondo noi è strategica per il turismo, per la difesa della costa, ma anche per migliorare la qualità della vita di quella zona. Tra una decina di giorni arriveranno i primi pontoni per iniziare l'opera di salpamento delle scogliere che ci sono, ma sono praticamente a riva mare. Verranno spostate molto più indietro con ovviamente un'aggiunta di materiale in più rispetto a quello che è già presente, che arriverà dalle isole croate tramite navi di trasporto, quindi tutto ovviamente via mare e verranno posizionate a partire dal fiume Metauro verso sud. Quanti saranno i segmenti e quale sarà la tempistica? Allora, i segmenti sono 6, più sono stati considerati due piccoli pennelli a monte e a valle dell'intervento per evitare effetti di bordo. Sono lunghi circa 200 metri ciascuno, ha proseguito l'assessore, con dei varchi da 50 metri, così come da contratto. I lavori dovranno terminare entro un anno. Sui tempi di realizzazione, precisa Fanesi, incideranno le condizioni meteo-marine e l'inizio della prossima stagione estiva. Il comune poi sta già programmando l'intervento per la difesa della costa, da metà tra Torrette e Metauriglia, fino all'hotel Playa. Una zona nella quale andranno giunte anche sabbia e ghiaia nelle spiagge per poterle sfruttare al meglio. Inoltre, la ditta che si occuperà delle scoglieri di Metauriglia è la stessa che dovrà completare quelle di Sassonia. Ci hanno detto che finiranno breve. Hanno obblighi contrattuali di finire entro la fine dell'anno, quindi noi crediamo che lo riusciranno a fare, anche perché essendo impegnate nel trasporto massi sullo stesso settore del mare Adriatico, i lavori non dovrebbero durare tantissimo. E a riguardo a questo voglio ringraziare il grandissimo lavoro per quanto riguarda Metauriglia e la disponibilità anche del provveditorato dell'Opere Pubbliche di Ancona con la dirigente, quella con il quale speriamo di poter continuare la collaborazione per finire appunto il lavoro e chiudere tutto il paraggio fino a Torrette. Orafo di professione ma con una passione smisurata per lo sport. Questa sera vi raccontiamo la storia di Emanuele Gambini, un pesarese di 51 anni, più volte campione mondiale ed europeo in diverse discipline. Sentite. Un pesarese sul tetto del mondo per più di una volta, lui Emanuele Gambini, 51 anni, orafo di professione e consigliere comunale a Pesaro nel gruppo di minoranza, ma anche sportivo di alto livello. Il 13 giugno 2021 è diventato campione del mondo di Laser Run in Egitto per la categoria Master 50, una disciplina che consiste nella corsa con lo sparo. Titolo mondiale che Gambini ha conquistato per la seconda volta, l'ultimo nel 2019 nella categoria Master 40. Poi ancora, come se non bastasse, ad agosto 2021 l'atleta pesarese in Germania si è giudicato un altro titolo di tutto rispetto, diventando campione mondiale di biatle, disciplina che unisce insieme la corsa e il noto. Nella stessa Gambini ha ottenuto anche il titolo di campione europeo a Barcellona. Vai, 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 forza, vai, vai, corri, corri, vai, 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 che ci sei, sei lì, vai, 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 va, vai, 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 vai. Sono reduce da un anno diciamo molto importante per me perché sono riuscito a vincere due campionati del mondo e anche l'europeo. Il mio sport fa parte della federazione del pentathlon, è uno sport master, comunque io ho 50 anni quindi sono un atleta master, ho iniziato qualche anno fa e si tratta di correre, nuotare e sparare che sono tre appunto delle discipline del pentathlon. Dove sono abbinati tutte e tre si chiama triatle, invece dove sono due lo sparo e la corsa si chiama laser run e lo sparo e la corsa e il nuoto invece si chiamano biatle. Quest'anno ho vinto il campionato del mondo in Egitto di laser run, quindi di corse e sparo, poi ho vinto il mondiale all'europeo di biatle che era una gara che non avevo mai vinto. Sono molto soddisfatto e sono contento sia per me che per la città di portare in alto il nome della città e della società che rappresento, che è la S.D. Gabbiano di Pesaro, al quale devo quasi tutto al presidente che mi ha voluto qualche anno fa. Ecco, orafo di professione ma con una grande passione per lo sport, ci sono progetti in vista per il futuro? Eh, di progetti ce ne sono tanti, soprattutto perché credo che anche a livello umano ma anche a livello atletico, quando uno non si pone mai, non bisogna mai porsi dei traguardi. I traguardi si raggiungono e poi si guarda sempre avanti, quindi io adesso sto guardando, mi piacerebbe fare un altro Ironman, quello sì, ma quello riguarda il triathlon. Sono già impegnato nel prepararmi per il prossimo anno a ottobre perché ci saranno i mondiali a Madeira. E adesso apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Delio Manoni e Marisa Volpini, residenti a Fano, che domenica 24 ottobre hanno festeggiato 50 anni di matrimoni. Auguri da parte di tutti i familiari dallo staff di Fano TV. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi uno speciale dedicato alla 56esima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna. Invece il telegiornale Occhio alla Notizia torna domani sera alle 20.30. Grazie per averci seguito, a domani. Grazie a tutti.